in diretta dal festival di sanremo con filippo graziani ciao filippo prima esperienza al festival per te come ti sembra fin qui sto divertendo tantissimo sto veramente divertendo tantissimo è un momento in cui in cui si abbandona un attimo la realtà anche se non è stato puntato in questo questa giostra incredibile che è il festival hai fatto le ore piccole tu no in realtà no cercato di fare il bravissimo ieri solo che abbiamo finito di fare uno showcase a casa sanremo tardino quindi stamattina la sveglia è stata iniziano all'una e mezza questi showcase è un po' tardi un po' prima senti filippo prima esperienza al festival ma non certo prima esperienza da emergente diciamo così nel mondo della musica visto che hai vissuto a lungo anche a new york con appunto appuntamenti molto importanti in locali nei quali eri addirittura headliner cosa ti ha riportato in italia ma innanzitutto la mancanza di una carta verde riportato in italia e quello in effetti è che questa è una cosa che è abbastanza importante e poi diciamo che mi sono questo è il mio paese sono legato all'italia quindi sono convinto che la fuga deve essere una cosa temporanea poi bisogna tornare a casa però secondo me ho visto nel video che fai pugilato è una tua passione oltre alla musica però non da professionista no 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 non da professionista è una cosa che ho fatto le mie esperienze anche in quello sport lì è uno sport che per molti non combacia con la musica invece io trovo che tra pugilato e la musica ci sia un legame perché quando sali sul palco è come salire sul ring e viceversa quindi io vedo il palco come un ring alla fine quella è la mia impostazione quindi quando salgo lì salgo per dare tutto quello che ho tu sei il figlio di Ivan Graziani cosa porti con te di lui qui? porto un bagaglio genetico porto una se vuoi anche una tradizione sono felice di essere la seconda generazione in una famiglia dove la musica è protagonista quindi spero che possa continuare questa cosa non so se avrò dei figli magari spero che facciano anche loro questo lavoro grazie Filippo e in bocca al lupo grazie a crepi il lupo grazie